Salve a tutti e benvenuti, sono qui con Mr. Reset su Far Cry 3 e adesso facciamo la copp. Ciao. La copp. Guardate i suoi pantaloni. Io sono bello. E dei pantaloni a fiori che sono bellissimi. Il bello che ce li ho tuttora anche nella vita reale. Pantaloni a fiori, veramente. Con chi me la faccio. Troppo facile. Alla testa, uno l'ho preso già. Ahia, c'è l'arma senza silenziatore. Eh, cecchino non ha silenziatore, sai? No, in realtà c'è nero. Guardalo lui che se ne va. Che vale! Ok. Ricarico! Sai a terra! Non me lo vuoi dire, io c'ho il cecchino, come vado? E che mi sento giù di morale. Cioè? Sono giù di morale. Mi battuto, e non mi sei rimesso male. Ok, ti ho ripreso. E ci tirano le granate. E caspita è stato. Ok, uno l'ho fatto fuori. Sono due. Già sei andato avanti, bravo. E che ci amiamo, io e loro. Lanciarazzi, avanti! Magari se li uccidiamo prima di farci uccidere la Lanciarazzi, non è male, non è un'idea. Ok, preso in pieno. Dovrebbero mancarmi ancora un paio. Ma ce la dovremmo fare. Ok, ho preso la testa. Sono ancora un paio, eh. Se non li prendiamo, ci fanno fuori. Un altro l'ho preso. Mi piace di più. Lancia uno sulla pianta. Oddio, un bug di Far Cry 3. Non l'avevo mai visto. Quale? C'era uno sulla pianta. Bellissimo. Oh, c'è uno qui. C'è qualcosa. Dove? Eh, l'ho già fatto. Che cazzo è stato? Sono stata io. Oh, che puttana. Ai, sono buttato granata. Granata, 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 granata. Ah, sono a terra. Mi prendi? Allora, mi prendi? Mi è buttato la granata, questo che si è. Mi è buttato la granata, con il coltello nel collo. Già, è vero, anch'io le granate, effettivamente. Ti ricordi come lanciarle? Pare con G. No, no. Con il tasto, con la rotella, premendo la rotella del mouse. No, no, le tengo cambiate. Ah, tu le hai impostate in un altro modo. No, non ripartirò, non ripartirò, non ripartirò dopo l'interno. Successo. Ok, abbiamo fatto questa parte. Adesso dobbiamo parlare col tipo della barca, qua dentro. Mi ricordo questo pezzo, l'ho già fatto. Qua c'è una porta. Abbiamo la porta, c'è un signore. Inizia ad esserci momenti coincitati. Ok, ci siamo, aspetta. Ah, già, prendiamo le dosi. Dosi di droga. Ecco, siamo dosi, ci siamo... Sì. Beh, quegli stronti sono già in arrivo. Riparate la mia bambina. La tua bambina. Ok, raccolte. Quattro... Sto aggiustando la barca. Appena in tempo. Arrivano. Ok. Ok, arrivano. Dove sono io? Ah, sono venendo da là. No, dove sono arrivati noi? Resta fuori. Ok, uno l'ho preso. Sì, ma non potenziato il cecchino. E' quelli che si ci fanno il danno alla barca, per quello. Ma qua c'è uno che sta sparando. Non mi ha fatto niente, lo sai? Ma non è che sta sparando la barca? Sì, ma è che sta sparando la barca. Si mette la testa fuori quello. Infatti, dobbiamo anche riparare la barca. Ancora qualche riparazione e sarà pronta a partire. No, ma è bello proprio questo gioco. Mi sta facendo proprio un sacco. Ti ha lasciato qui? Sì, sì, dove dobbiamo andare di là. E' proprio una brutta persona, Sampei. Sampei. Sì, con Sampei. Sì, come me lo ricordo quando lo guardavo. Sì, ancora le orecchie a sventola. Non ci ho fatto nulla. E oddio. Non lo ho preso mai. Ok, preso. L'ho colpito, un cecchino è andato. Io ho sparato al nemico. Vabbè, capito. Di sicuro lo sentirà per l'anno. Ok, i due cecchini sono andati. Cazzo, eccolo là. Dobbiamo trovare un guado. No, c'è ancora uno, c'è ancora uno. Senta che... Finito il cecchino è morto. Sì, no, ce n'era un altro a fianco. Ci n'erano due. Comunque non ti dico dove ho colpito il nemico. Ma per sicurezza. Non c'è questa cosa. C'è un altro cecchino. Che mi ha tirato giù. Ma porco cazzo, perdiamo bene. Dobbiamo attraversare. Sì, da te. Io sono bellissimo. Non è andata. Ce n'è ancora uno di cecchino. Tu sei a terra? Sì, sono dove c'è la cosa, la barca. Ok. Mi ha beccato proprio il cecchino. Ok. Ho salvato... No, ci c'è ancora il cecchino. Sì, infatti. Adesso no. No, c'è ancora una. No, non lo vedo. No, non lo vedo. Ok. Ok, mi curo. Centro perfetto. Centro perfetto. E' un'ottima cecchinoologa. Cecchino. Lo so che potevamo farlo andare. L'acqua in Far Cry. Guardatela. Io vado con il mezzo di classe. Io vado a noto perché bello a notare in Far Cry. C'è un cattivo. Ma io non voglio bagnare. Non ho fatto una bella pensare a venire di qua. Che io... Così così non è da lontano. C'è un arrivato... C'era quello di pure del... Della torreta. Madonna, moriteci però. Io c'è un po' sparare a merda. Mi stanno uccidendo. Caspita, eh. Ok, un'è andata, mi devo curare un attimo. Ma che razza di... Medici, non ho fatto solo solo pazzo. Cioè... E' quale di tanti motivi? Oh mio Dio. Bomba. Ho sentito una bomba. Sì, stanno cominciando a... Munizioni. Ok. Uno l'ho preso. Ma ci sono le munizioni. Prendile. Guarda qua. Che gente cattiva io ho davanti. Ok. Dai che manca l'ultimo. Madonna. Ma ho tirato giù. Ma colpito bene. Aspetta che... Ma sono io quello che cade di più di tutti? Perché non sei il buono. Beccati questo proiettile. Troietta. Buono. Ehi, andiamo. C'è uno con la testa compenetrata dentro. Questa cosa la andiamo a vedere da vicino. Ma la vedo anch'io. Guardate la... No, è dentro. E' qua perché? Ok, è morto. Viva la K. Ma dobbiamo andare di là. Ma dobbiamo guidare. Quindi... Sii felice. Bella. Mi pare che è qua che dobbiamo guidare. Che poi io sono vestita da guerriera col fiorellino in testa. Andiamo noi di... Dove dove andiamo? Preparati allo scontro. Due. Uno. Ti ha colpito male. È bellissima. Ti ha proprio colpito. Vabbè, sto perdendo tempo. Sai che hai vinto già, eh? Non credo. Presa! Presa! No, ma io non ne ho presa ancora una. Non le vedo. Ci sono i segnali. Quando ci sono. Ti vedo solo dei cosi verbi. Cosi verbi perché non prendi la bomba? La bomba viene segnata. Non la vedi. Ah, eccola! Ok, guardami, come ti sa. Ricardissimo. Aiuta! Oh mio Dio! Com'è brutto guidare il Dio. Ti vola! La bomba è vero! Hai preso tu la bomba questa volta. Sì. Ma ce n'è un'altra, eh? Sì, non so dovevi dire. Grande! Piazzata. Ce n'è ancora due. Ok, l'ho presa un'altra. Ha perso Cassiopeia, mi sa, eh? Non è un tappo bene, sì. Cassiopeia ha perso. Oh mio Dio! Hai vinto! Nuovo livello, sette! Hai vinto, hai vinto. Un bel tipo con una lama! Un bel tipo con una lama. Occhio al massardo col cortello! Io vado... Ah, questo possiamo farla stealth. Ah, ah! Io vado con la pistolina. Tu dici a me di fare qualcosa stealth. Io ogni tanto le faccio stealth. Perché sono proprio cattivissime. E' la cosa più noiosa che vabbè mai... Non c'è che sprega proietto. Cavolo, ti ho preso in pieno deficiente. Arrivato a battaglio, prestiti! Arrivato a battaglio! Arrivato a battaglio! Arrivato a battaglio, prestiti! E' tiri la bomba. Mi tolco, mi tolco, mi tolco. No, l'aveva tirata lui, te l'aveva tirata a fondo. Non l'hai cagato proprio. No, ma non mi è arrivata la bomba. Sì, è arrivato il segnale. Non so neanche come funzionano. Tento al cane! Andato il cane! Lancia l'azzo! Lui! Che cazzo è questo? E' il Far Cry! Mi hanno fatto esplodere. Tutti i giocatori a terra! No, abbiamo perso! Ci hanno fatto saltare in aria! Bomba, bomba! Ci hanno lanciato la bomba! Ma dove cavolo è arrivata la bomba? Non per capire altro. Vorrei capire. Ah, io guardo, uso sempre l'arma. Con la faccia di una che riesce a fare qualcosa stealth. Io faccio sia stealth che non stealth. Quindi cerco di fare al meglio. Io ne vorrei prendere qualcuno da lontano, così almeno ce lo togliamo già. E' pronta? Tu prendi quella filista. Alla testa. E' preso qua a destra. Eh sì, l'altro non lo vedo. Che che? Non ti preoccupare. Ma c'è il lanciarazzi? L'ho fatto saltare io. C'è il lanciarazzi? No. Ho fatto saltare il bidone accanto a lui. Ah, ok. A bidonate l'ho preso. E ti sei pigliato il lanciarazzi? No, c'è il loro. Merda! Lanciarazzi! Capito? Ce l'hanno loro il lanciarazzi. C'è uno dietro a noi. Ok, è morto. C'era uno dietro a noi. Dispiace per gli animalisti. No, i cani in questo gioco sono... Aspettate, uccidi quello che c'è il lanciarazzi. Segnala una bomba. Ecco. Lanciarazzi è andato. Ok. Ha un coltello e no! Non male! Ha un coltello e no! Io mi sto concentrando sull'uccisione. Mi sono le problemi di ucciderli. Cioè dove li colpisco va bene con me. Ragionazzi! 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 Niente golpi! Sto a coltello! Io vado di... Di pistolina, renditi conto. Vabbè... Devo piazzarne due, mi sa, eh. Vieni, uccisi varie. Eh, l'altra è stata l'altra parte. Adesso dobbiamo dividerci un po'. C'è, uno... Uno prende la bomba e uno copre. Eh sì, perché... Anche perché ti porta ad essere molto lento. Eh, appunto. Quindi se prendi tu la bomba ti devo coprire io. E tu che vuoi attaccare da... Sparare da lontano è buona, eh. E' un muore, però. Aspetta, posa la terra che c'è il corazzato. Io non uccidero mai col cecchino. Posa la terra, mi serve un mitra. Guarda come... Nooo, sono terra! Sono terra io! Ricarico! Cavolo no! Non sarò sempre qui a sapere di cure. Prendilo, prendilo, prendilo. C'è il mio cecchino, non gli faccio nulla. Devo... No, sto a terra. Sto a terra. E che caspita! Nooo, sto a terra. Come sei morta? Eh, te l'ho detto, stavo a terra. Stavo vicino a te. Azzo. Usa la secondaria, perché non hai un'arma abbastanza potente, la secondaria. Riesci a coprirmi? Sì, tu male che vada, posa la terra, uccidi. Quella è quella più lontano. Io metto in quella più lontano, parami il culo. Parami il culo. Abbassati, lo che fa. Sto a ricaricato! Fosa la mattina a terra, che... Io non posso sparare un culo. Sotto alla volta, lo vedi? Su capi un proiettile, proiettile. Eh, quella... Facciamo una cosa, adesso toccate... Prende la bomba, perché secondo me... Qui ci vuole il mio... Il mio... Fuoco. Che cazzo è... Qualcuno ha ucciso, ma... Mi hanno battuto, è indietro. E' arrivato, posa la bomba a terra e spara i tu con... Che col mitra lo fai fuori subito. Abbastanza. Vedi? Io ho ucciso l'altro, ma mi ha stesa. Uccidilo. Perfetto. Ma tu... No! Come caspita ho fatto! No! Vieni qua, vieni qua. Sto arrivando con l'esplosivo. Comunque... Ucciderli con... Secondo me sarebbe buono da prendere il più lontano... E mettergli la bomba... E poi quello vicino, perché quello più lontano è quello che rompe le scatole di più. Aspetta che mi stanno uccidendo. Provare per provare. Ok, 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 ok. Uno l'abbiamo qua. Non mi fai paura! Stratta! Ale. Troppo facile. Il prossimo è quello più vicino. Quindi non dovremmo avere tanti problemi. Perché lanciando la granata almeno riusciamo a... Ma togli di più la vita. Non mi fa tirare nulla. Non mi devo le fare... Non me la fa tirare la granata. Devo muovermi. Vedi, anche se... Va bene, facciamo saltare quel ponte. Capiamo. Ok, facciamolo saltare con lui sopra. Vai via via. Sì, 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 vai, 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 eccomi qua. Trova il detonatore. Ho il detonatore. Dettono. Levarsi dal ponte subito! Via, via. 10 secondi. Via, via. Allontano, corri. Che è successo? Ti devi allontanare? Ecco che è successo. Ok. Ok. Ce l'abbiamo fatta! Un punto in meno. C'è gente che volava, eh. Bello, sono contento. È bello. Dove sei? Sono qui alla tua sinistra. Sono a Pietra. Forza, abbiamo già perso abbastanza... Va bene, spero che il video vi sia piaciuto. Noi lo interrompiamo qui. Reset saluta. Ciao! Ciao! Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Vai, parla! Parola! Sono bella! Ok, questa qua la salviamo e la mettiamo a fine gameplay.